Signor Segretario, mi ringrazio per la partecipazione, signor Prorettore, signori onorevoli, autorità, gentili signori e signori, cari colleghi, a nome del Centro di ricerca CIS dell'Università della Sapienza di Roma, che in questo momento sto rappresentando, vi ringrazio per la vostra partecipazione a questo convegno, anche dopo ormai a diverse edizioni, continuate a onorarci con questa istituità. L'interesse testimoniato dalla partecipazione all'ODN è sottolineare l'importanza del framework nazionale di cyber security che andremo a discutere e degli altri aspetti dei temi di protezione delle infrastrutture critiche nazionali. Nel Centro CIS, è stato istituito nel 2012, a seguito di una collaborazione con la Presidenza del Consiglio e con il DIS, iniziata già nel 2010 con il Tauro di lavoro congiunto, che portò alla firma della prima convenzione storica nell'estate del 2011, fra l'Università della Sapienza e del DIS. Il centro da allora, il CIS, il centro di ricerca, si è evoluto in modo multidisciplinare, si è continuato a occuparsi di temi che includono la cyber security, l'information assurance, la protezione delle infrastrutture critiche. Le competenze del CIS spasiano dall'informatica, all'ingegneria dell'informazione, alla statistica, alle scienze giuridiche e all'economia. Oggi il CIS è uno dei centri della sapienza cresciuti maggiormente in questi ultimi anni, sia in termini di risorse, sia in termini di budget. Numerosi e importanti progetti di ricerca nazionali ed internazionali sono attivi su temi di cyber security, sono portati avanti da un centinaio di ricercatori che afferiscono al CIS, fra i quali numerosi ricercatori sono stati premiati a livello internazionale per la loro eccellenza nella ricerca di base e nella ricerca applicata nel settore della cyber security. Questo è quello che è stato fatto nel CIS in questi anni. Io adesso volevo fare qualche riflessione su quello che è avvenuto nel mondo cyber security in quest'ultimo anno, nel 2015. Un punto importante, secondo me, è stata la tragedia che purtroppo si è compiuta a Parigi nella notte del 13 novembre del 2015, quindi due mesi fa circa. Questo ha segnalato un salto di qualità nella battaglia culturale che stiamo vivendo. Sono stati scelti obiettivi comuni, i simboli di una generazione che ha conosciuto solo la pace e la libertà. Purtroppo queste ed altre vicende nel 2015 documentano che i terroristi e i cyber terroristi sono nelle nostre città, nelle nostre case, sono nei nostri pc, nei nostri computer, sono nei nostri sistemi informativi. A questo è stata una risposta da parte dell'Europa e anche da parte del governo italiano. Il governo italiano ha risposto in modo estremamente fattivo e positivo in linea con gli altri governi europei, con i principali governi europei. Continuando infatti il percorso delineato dal DPCM del 24 gennaio 2013, ulteriormente la legge di stabilità del 2016 ha stanziato dei fondi nuovi per il 2016 per rafforzare la sicurezza informatica e la sicurezza cyber della nazione, questa è una decisione importante che mette il governo italiano in linea con i principali governi europei. Spero che il governo proporrà nel proseguo ulteriori iniziative per destinare risorse alla cyber security, che permettono al governo stesso e agli altri soggetti nazionali di svolgere un ruolo preeminente in Europa nel settore della cyber security, ad esempio svolgere un ruolo permanente per quello che riguarda le attività di individuazione e neutralizzazione delle minacce nei confronti della sicurezza lo spazio aereo nazionale. Altre nazioni che sono state molto più colpite, anche come la Francia e il Belgio, hanno stanziato chiaramente per il 2016 le cifre più importanti di quelle del governo italiano. Tuttavia l'iniziativa è senz'altro in linea e ci mette in una posizione di perfetto allineamento con gli altri governi europei. Quindi questa situazione, questo fatto, queste circostanze del 2015 stanno rilevando un contesto importante per la cyber security in Italia. A questo punto non perdiamo questa occasione. Occorre affrontare le problematiche della minaccia cyber in modo sistematico. Non perdiamo questa occasione per guardare tutti nella stessa direzione, inseguire obiettivi comuni, creare una forte collaborazione fra il nostro governo e tutti i soggetti nazionali che possano contribuire al processo di indagine, di costruzione, di messa in comune delle conoscenze relative alla sicurezza cyber nazionale. Per affrontare la minaccia cyber i soggetti nazionali di riferimento devono essere messi in grado di condividere le eccellenze del Paese e di assicurare un'efficace azione, di supporto alla realizzazione delle azioni governative. Tra i soggetti includono sicuramente l'intelligence italiana, insieme ad altre organizzazioni governative, le forze di polizia, le strutture del Ministero della Difesa, le strutture del Ministero degli Interni e del Ministero del Sviluppo Economico. L'industria nazionale ha un ruolo importante e anche la ricerca e l'innovazione universitaria. Occorre affinare i metodi di rilevazione e di registrazione degli attacchi cyber. Occorre ascoltare i soggetti che osservano in prima linea gli attacchi cyber rivolte alla nostra nazione. Lo sappiamo tutti, alcuni attacchi non sono sempre rilevati, alcuni attacchi non sono denunciati dalle vittime, tuttavia l'incidenza di determinati attacchi, la loro relazione con i cambiamenti delle strategie politiche economiche del Paese, sono basilari per definire la specificità dei problemi che vanno risolti per garantire la sicurezza cyber nazionale. È necessario un'attenta analisi agli attacchi cyber che hanno come obiettivo la nostra nazione, analisi finalizzata alla descrizione del fenomeno degli attacchi cyber, alla definizione dei reali problemi da risolvere per garantire la sicurezza dello spazio cyber nazionale. Il ruolo dell'intelligence in questo è fondamentale, ad esempio per la formulazione di analisi, di valutazioni, di previsioni sulla minaccia cyber, per individuare e spiegare in modo coerente ed esauriente i principali fenomeni che emergono dall'aggregazione e dalla correlazione dell'insieme di attacchi a cui i sistemi informativi e le reti nazionali sono oggetto da parte di organizzazioni che attuano gli attacchi cyber. Per conoscere i rischi reali è il quadro derivante dalla minaccia cyber a definire le misure necessarie a prevenirli. Occorre che la ricerca e l'innovazione universitaria vengono coinvolte per risolvere i problemi che verranno individuati in questo modo. L'università è pronta. In questi anni l'università ha condotto un gran numero di ricerche con risultati che hanno ricadute applicative quasi immediate nel cyberspace. A questo punto l'università è pronta a innovare ulteriormente le soluzioni sviluppate, ad esempio per contestualizzarle al quadro della minaccia cyber nazionale. Un altro aspetto importante è la dimensione giuridica del problema cyber security. All'indomani della stagia di Parigi di novembre 2015 il Parlamento francese si è riunito nel castello di Versailles per deliberare le modifiche costituzionali sugli articoli che regolano lo stato d'emergenza e i poteri eccezionali al Presidente. Questo è un fatto significativo che rileva l'esigenza di trattare la normativa alle nuove minacce che ci sono sia da parte del terrorismo che da parte del cyberterrorismo internazionale. Ad esempio nel decreto, nel DPCM del gennaio 2013 ho notato che è presente una sola volta la parola reazione. In particolare in articolo 10, quando si parla del NISP, si parla di coordinare le attività di reazione. Ora, anche in ambito dato si inizia a studiare quella che viene chiamata la active cyber defense. Occorre iniziare a identificare le soluzioni normative, politiche e diplomatiche per migliorare la difesa del cyber space nazionale, permettendo che i soggetti preposti possano eseguire attività di active cyber defense in un contesto giuridico normativo che gli lo permetta. Ovviamente lo sappiamo tutti, ci sono tanti dubbi nell'adottare questo tipo di attivazione attiva. Primo fra tutti la difficoltà nel mondo cyber nel risalire al vero mandante degli attacchi. Occorre diplomazia e una gestione politica di reagire sulla base di informazioni raccolte. È un contesto chiaramente ampio, però occorre iniziare a fare sistema, a coordinarsi. La sfida è difficile, ma dobbiamo essere all'altezza. Non perdiamo questa occasione. È il momento di un patto per salvare il cyber space nazionale ed europeo, a tutela degli interessi socio-economici del nostro Paese. L'Università è pronta a coordinarsi e ad innovare ulteriormente i risultati già individuati nella ricerca e che hanno ricaduto applicative dirette nel risolvere i problemi di sicurezza cyber nazionali. Grazie per l'attenzione.